Ciao bambini, bentornati! Oggi, in occasione del Natale, creeremo qualche decorazione natalizia con del materiale da riciclo. Ci occorrono dei rotoli di carta igienica, dei cartoncini colorati, un tappo o un bicchierino rosso, dei bottoni, del cotone, un pennarello nero, della colla, un pennello e dei colori. Per realizzare il nostro Babbo Natale bisogna ricoprire del rotolo di carta igienica con un cartoncino rosso. In seguito, la parte superiore si ricopre con un cartoncino, un foglio da riciclo rosa, per realizzare il viso. Successivamente, realizziamo una cintura per il nostro Babbo Natale e decoriamola con un bottoncino. Per realizzare il cappello, utilizziamo un tappo rosso e con del cotone realizziamola a barlo. Mettete in atto la vostra creatività e realizzate ciò che più vi piace. Noi abbiamo realizzato un pupazzo di neve e una renna. Mettete in atto la vostra creatività e realizzate ciò che più vi piace.